La scorsa lezione abbiamo parlato del momento polare e delle sue proprietà. L'ultimo argomento che abbiamo esaminato trattava delle componenti cartesiane del momento polare. Vediamo oggi il concetto di momento assiale di un vettore applicato. Quindi pensiamo di assegnare una retta R orientata con versore E e indichiamo con O e O' due punti arbitrari della retta. Si è assegnato il vettore applicato PV e andiamo a calcolare il momento di questo vettore rispetto ai due poli O e O' della retta. Quindi avremo M con O uguale P meno O prodotto vettoriale per V, M O' uguale P meno O' prodotto vettoriale per V. Se come al solito nel fare il confronto facciamo la differenza dei due momenti polari, ponendo in evidenza il vettore V avremo P meno O meno P meno O' e quindi applica un prodotto vettoriale per V. Se applicate la regola di cancellazione P e meno P si elidono, rimane O' meno O vettore V. Quindi questa differenza come vedete è diversa da zero, V a direzione qualunque rispetto alla retta. Proviamo ora a moltiplicare scalarmente primo e secondo membro di questa eguaglianza vettoriale per il versore della retta, cioè proiettiamo, come si suol dire, questa relazione vettoriale sulla retta R. E quindi avremo M O meno M O' scalare E uguale O' meno O vettore V scalare E. Ci accorgiamo subito che il prodotto misto ha due vettori paralleli O' meno O ed E, perché per ipotesi O e O' sono punti scelti sulla retta. Il prodotto misto si annulla e quindi possiamo concludere che M O scalare E deve essere uguale ad M O' scalare E e questo comunque si scelga la coppia di punti O e O' sulla retta. Quindi state attenti, i due momenti dello stesso vettore PV rispetto a due poli distinti della retta, due momenti polari, sono tra loro differenti, come ben sappiamo. Se però facciamo le componenti di questi due momenti polari sulla retta, troviamo lo stesso risultato come indica quella formula a fine pagina. Le due componenti dei due momenti polari sulla retta coincidono. E quindi possiamo dire che la seguente definizione è legittima, è indipendente dalla scelta del polo O. Quindi diremo che i momenti polari del vettore applicato PV rispetto ai vari punti della retta R ammettono tutti la stessa componente sulla retta. Ebbene, questa comune componente dei momenti polari rispetto a punti della retta è ciò che si chiama momento assiale del vettore applicato rispetto alla retta e si denota con M con R. Come vedete, quindi questo scalare così definito dipende solo dalla retta, ma non dalla scelta del polo sulla retta. Quindi la 2,1 sintetizza questa definizione, momento assiale rispetto alla retta e la componente del momento polare calcolato rispetto a un polo O scelto all'arbitro sulla retta. E quindi dato dal prodotto misto P-O vettore V scalare è. Comunque si scelga il polo sulla retta. Quindi già una prima differenza fondamentale, mentre il momento polare di un vettore applicato è un vettore, un vettore libero, il momento assiale rispetto ad una retta orientata è invece uno scalare, scalare definito da quel prodotto misto. Ora quando si opera in ambito cartesiano e allora quel prodotto misto si può calcolare facilmente, si ricorre all'ispressione cartesiana del prodotto misto e di conseguenza si determina facilmente il momento assiale. Quando invece non si ricorre all'ispressione cartesiana, in alcuni esercizi può accadere, allora questo momento assiale si può calcolare più facilmente che non con quel prodotto misto indicato alla 2,1. Quindi andiamo ad occuparci di una regola di calcolo del momento assiale che ci permette di evitare di stare a calcolare volta per volta quel prodotto misto, il volume del parallelepibio individuato da quei tre vettori. Per stabilire questa regola di calcolo cominciamo a esaminare alcuni casi particolari. Il primo caso particolare è che il vettore V sia parallelo alla retta. Quindi appena andate ad applicare la definizione, il momento assiale è dato da P-O, prodotto vettoriale V scalare E. Ebbene, questo prodotto misto contiene due vettori paralleli, V ed E, e quindi sia a nulla per complanarità. Quindi quando il vettore è parallelo alla retta, il momento assiale è nullo. Lo potete vedere anche in altra maniera. Il momento del vettore è naturalmente, per definizione di momento polare, perpendicolare al vettore stesso. Appena ne fate la componente sulla retta che è parallelo al vettore, il risultato è zero. Quindi una prima conclusione è che quando io ho un vettore e ne voglio calcolare il momento assiale rispetto a una retta parallelo al vettore, sono sicuro che questo momento assiale è zero. Questo si capisce anche fisicamente. Vedremo nella dinamica dei moti rotatori che il momento assiale è associato a rotazioni intorno all'asse. Ora quando la forza, nel nostro caso il vettore V, è parallelo all'asse, non è possibile imprimere alcuna rotazione intorno all'asse. Eseminiamo invece un secondo caso particolare, il caso che il vettore V sia perpendicolare alla retta. E allora noi abbiamo assegnato il vettore applicato V nel punto P, abbiamo la retta R, andiamo a considerare il piano che sia perpendicolare alla retta e contenga il punto d'applicazione del vettore. In questo caso particolare, essendo il vettore perpendicolare alla retta, questo piano finirà col contenere tutto il vettore applicato P, V. Se andiamo a calcolarci il momento assiale di questo vettore e allora vediamo che questo momento assiale si riduce, come dice quella formula, a prodotto H per V. Vediamo perché. Cominciamo a calcolare allora il momento polare del vettore rispetto al polo, per definizione di momento polare esso sarà un vettore perpendicolare al piano e quindi parallelo alla retta. Allora la componente di questo momento polare fatta sulla retta coinciderà con il modulo del momento polare da prendersi con un segno più o con un segno meno secondo che questo momento polare, questo vettore M con O, abbia il verso della retta o verso opposto. Nel caso di questa prima figura il vettore V appare levo giro rispetto alla retta, quindi il momento polare ha la direzione della retta stessa e quindi la sua componente sulla retta coincide con il suo modulo. Quindi quando il vettore è perpendicolare alla retta, il momento assiale coincide con il modulo del momento polare preso con il segno più. Ora abbiamo imparato a calcolare il modulo del momento polare dato semplicemente dall'intensità del vettore per la distanza fra il polo O e la retta d'applicazione del vettore e quindi in questo caso avete che MR è uguale ad H per modulo V. Se adesso considerate l'altro caso, sempre vettore perpendicolare alla retta, solo che questa volta come mostra la figura avete un vettore destro e giro, allora il momento polare è diretto verso il basso, verso opposto alla retta e quindi in questo caso la sua componente sulla retta avrà il segno meno. Quindi in questo caso il momento assiale sarà uguale a meno il modulo del momento polare perché il momento polare pur mantenendosi parallelo alla retta questa volta è invece diretto in verso opposto e quindi questa volta il momento assiale sarà dato da meno il prodotto H per B. Quindi quando io ho un vettore perpendicolare alla retta il suo momento assiale coincide con il modulo del momento polare rispetto a un punto della retta da prendersi con il segno più o con il segno meno secondo che il vettore sia levo giro o destro giro rispetto alla retta. E passiamo al caso generale, al caso di un vettore che sia comunque disposto rispetto alla retta. Quindi abbiamo quel vettore V, la cui retta l'applicazione sghemba rispetto alla retta R e quindi con riferimento ai due casi particolari trattati precedentemente possiamo pensare di scomporre questo vettore V in due componenti. l'uno parallelo alla retta, vedete quel vettore indicato con V parallelo e l'altro perpendicolare alla retta e quindi che appartiene al piano pi greco, quel vettore indicato con V perpendicolare. Per la scomposizione quindi scriveremo V uguale V perpendicolare più V parallelo. Ma sappiamo già dai casi trattati precedentemente che il componente parallelo alla retta V parallelo non rega alcun contributo al momento assiale. Il momento di un vettore parallelo alla retta, ricordate nel primo caso particolare, si annulla. Quindi il momento assiale di quel vettore V dello spazio, oramai sghembo rispetto alla retta, si riduce al momento assiale del solo componente perpendicolare, quello che abbiamo chiamato V perpendicolare. Ed ecco perché voi potrete scrivere M con R uguale P meno O prodotto vettoriale V perpendicolare scalare per E. In base alla regola che abbiamo dedotto precedentemente, questo prodotto misto si riduce allora al modulo del componente V perpendicolare per la distanza del polo O prefissato sulla retta R dalla retta d'applicazione di questo componente. Il tutto da prendersi con il segno più o con il segno meno, secondo che questo vettore V perpendicolare sia levogiro o destrogiro rispetto alla retta, ma guardate se il vettore V perpendicolare è levogiro o destrogiro rispetto alla retta, tale risulta anche il vettore V e viceversa. E quindi possiamo enunciare la regola di calcolo del momento assiale, il momento assiale del vettore applicato PV rispetto alla retta e lo scalare dato dal prodotto indicato in 2,2, più o meno H per il modulo di V perpendicolare, dove è da prendere il segno più o il segno meno, secondo che il vettore applicato PV sia levogiro o destrogiro rispetto alla retta. Quindi vedete una regola abbastanza semplice che non richiede di fare calcoli come quando operati in ambito cartesiano e vedremo qualche esercizio in cui l'uso di questa regola di calcolo è abbastanza semplice. Un'altra cosa da ricordare a proposito del momento assiale, vedremo nella statica del corpo rigido, in particolare quando ci occuperemo dell'equilibrio del corpo rigido con asse fisso, avremo bisogno di annullare il momento delle forze che agiscono sul corpo rigido, momento a calcolare rispetto all'asse. Quindi impariamo a vedere in quali casi si può annullare un momento assiale. Siccome abbiamo detto che questo momento assiale è il prodotto del modulo del componente V perpendicolare per la distanza H, è chiaro che MR sia nullo quando H uguale a 0 o quando V perpendicolare è nullo. Bene, dire H uguale a 0 significa dire che la retta d'applicazione del vettore e la retta R devono essere incidenti, solo così la distanza tra queste due rette si può annullare. Oppure l'altro caso, dire V perpendicolare uguale a 0 significa dire o il vettore è nullo o tale vettore è parallelo alla retta stessa. E quindi vedete che le due rette o devono essere incidenti o devono essere parallele, in entrambi i casi sono complanari. Quindi tutto questo discorso si può sintetizzare dicendo che il momento assiale si annulla se e solo se il vettore è nullo, oppure la retta di applicazione del vettore e la retta assegnata sono complanari. Riferiamoci ora ad una terna come al solito ortogonale levogira OXYZ, assegniamo il vettore applicato PV, andiamo a calcolare il momento polare di questo vettore rispetto all'origine della laterna, ciò che abbiamo indicato con M con O, e calcoliamo le componenti di questo momento polare sugli assi cartesiani X, Y e Z. Allora cominciamo dal calcolo di M con X. M con X significa componente del vettore M con O lungo l'asse di versore I. Allora vedete, stiamo facendo la componente sulla retta X del momento calcolato rispetto a un punto della retta X, ma questa componente per definizione è proprio il momento assiale rispetto a X. Quindi la componente del momento polare calcolato rispetto all'origine del riferimento coincide con il momento assiale rispetto ad X. E c'è questa espressione che vedete indicata sul video YBZ-ZBY come segue dalla regola di calcolo delle componenti del momento polare. Lo stesso discorso possiamo ripetere sugli assi Y e Z, poiché O appartiene anche all'asse Y. Se fate la componente sull'asse Y del momento calcolato rispetto a un punto dell'asse Y, allora avrete proprio il momento rispetto a Y, la cui espressione è questa qui, ZVX-XVZ e analogamente per l'asse Z. E quindi ci servirà ricordare nel seguito che le componenti cartesiane del momento polare rispetto all'origine del riferimento non sono altro che i momenti assiali MX, MY, MZ rispetto agli assi coordinati. Quindi vedete dei momenti rispetto ad assi particolari, cioè gli assi di riferimento. Poniamoci ora invece il problema di calcolare in ambito cartesiano il momento assiale del vettore rispetto a una qualsiasi retta R dello spazio che sia assegnata mediante i coseni di vettori alfa, beta e gamma nel riferimento prefissato. Quindi quando dovremo calcolare il momento di un vettore rispetto ad una retta di coseni, il momento di un vettore, se dicevo bene, rispetto alla retta R individuata dai coseni di vettori alfa, beta e gamma, per definizione di momento assiale basterà a prendere un punto T qualsiasi sulla retta, individuato dalle sue coordinate X con T, Y, T, Z, T e formare il prodotto misto come abbiamo visto dalla definizione di MR, MR uguale P-T, vettore V scalare E. Dopodiché basta ricorrere all'espressione cartesiana di questo prodotto misto, quindi scriveremo uguale al determinante, vedete le tre righe non sono altro che le componenti cartesiane dei tre vettori su cui opera il prodotto misto. Quindi il vettore P-T sarà individuato dalle componenti X-X di T, Y-Y di T e Z-Z di T. Vedete queste componenti del segmento orientato P-T sono sempre date dalla differenza delle coordinate omonimi dei due punti, vettore V individuato dalle componenti seconda riga, VX, VY, VZ, il versore E, ricordate le componenti di un versore sono i coseni di vettori della sua direzione orientata, quindi alfa, beta e gamma. Ebbene, il determinante di questa matrice individuerà subito il momento assiale rispetto alla retta R. Questa è un'altra regola da tenere a mente nello sviluppo di esercizi. Ecco, prima di continuare nell'esposizione di altri argomenti sui campi vettoriali, siccome questi sono per voi argomenti completamente nuovi, in particolare il momento assiale, sarà bene soffermarci sia per acquisire un po' di senso fisico su questi momenti e sia per imparare a calcolare facilmente momenti polari e momenti assiali o applicando le definizioni o oppure applicando la rappresentazione cartesiana. Per questa ragione, in questo paragrafo 3 ho inserito alcuni esercizi che adesso svolgeremo insieme, suggerendovi poi di consultare i testi consigliati per eventuali altri esercizi, potreste ad esempio consultare il testo di Birras e Johnson, volume primo, la statica, nel cui capitolo terzo troverete nelle pagine indicate, troverete numerosi esercizi sul calcolo dei momenti, o anche il testo di Targ tradotto in italiano, nei capitoli indicati, ci sono numerosi esercizi sul calcolo di momenti, momenti di forze applicati a particolari strutture, quindi in questi esercizi che adesso svolgeremo insieme, il vettore B è assimilato ad una forza, proprio per abituarci a trattare, diciamo ad applicare subito questi concetti che stiamo introducendo sui campi vettoriali in generale. Allora, il primo esercizio, l'esercizio 3.1, con riferimento alla sbarra rigida della figura incernierata nel punto fisso O, calcolare il momento della forza PF rispetto ad O, questa è una prima domanda. La seconda domanda, al variare della retta di applicazione della forza, determinare il più piccolo valore del modulo della forza che genera lo stesso momento. Quindi voi vedete quella sbarra rigida OP che è tenuta fissa nel punto O mediante una cerniera, sapete bene che una cerniera cilindrica è un dispositivo vincolare che obbliga un corpo rigido a ruotare intorno a un asse fisso, pensate a una cerniera della porta, in questo caso siamo di fronte a un sistema piano, quindi in O è situata una cerniera piano, cioè sezione di questo cilindro, di questa cerniera cilindrica con il piano della figura. Con buona approssimazione una cerniera piana è realizzata nel caso di un paio di forbici dove le due asse sono collegate appunto mediante una piccola cerniera verosimilmente piana. Ebbene questa sbarra quindi è fissata nel punto O, è sollecitata da quella forza di cui viene assegnato il modulo pari a 100 N e dovete calcolare il momento e poi rispondere all'altro quesito. Cominciamo allora a interessarci del momento di questa forza nella posizione della forza indicata in figura. E allora vedete che se immaginate l'osservatore posto in O, allora il vettore F appare all'osservatore posto in O, è diretto verso di noi che stiamo osservando il video, appare un vettore orario e quindi il verso di rotazione è quell'orario come è indicato dalla freccia. Vedete le frecce che troverete, i sensi di rotazione che troverete associate alle figure, si riferiscono sempre all'osservatore rivolto dal piano del video verso di noi. Però state attenti perché il vettore momento deve essere sempre tale che adesso al segmento orientato e rappresentativo del momento applicato in O, il vettore deve apparire sempre devo giro. Quindi in questo caso specifico vorrà dire che il vettore momento è rivolto dal video alle spalle del video, proprio perché se lo orientaste verso di noi, a questo segmento orientato verso di noi, la forza apparirebbe destro giro. Quindi la regola pratica per non confondervi è questa, quando sul piano del vostro disegno voi trovate un verso di rotazione oraria, allora in quel caso vuol dire che il vettore momento ha un segno meno davanti, cioè è diretta nel verso opposto all'asse dell'osservatore. Quando invece vedete un verso di rotazione anti-orario, allora il vettore momento è rivolto verso l'osservatore. Ecco, quindi state ben attenti a non confondervi. E allora fatto questo noi abbiamo a disposizione come dati il modulo della forza e la lunghezza dell'asta OP, nel caso specifico della figura per calcolare il momento, ne abbiamo già precisata la direzione e il verso, vediamo il suo modulo, ebbè il suo modulo sarà dato dal modulo della forza per quella distanza OH, quindi la distanza H piccola, quella distanza la calcolate subito nel triangolo rettangolo OPF, perché il cateto H vi è dato dalla lunghezza dell'ipotenusa, quindi dal braccio B, per il coseno dell'angolo adiacente. E quindi calcolate subito H data da B coseno di 60 gradi e quindi pari a B mezzi e il modulo del vettore momento è quello indicato pari a 40 N per metri, con le caratteristiche che abbiamo indicato. E quindi questo risponde in maniera completa alla prima domanda. Ora per la seconda domanda, la seconda domanda si riferisce ad una forza che rimane costante, che diciamo può variare, una forza F che si può variare in direzione, quindi riferiamoci alla seconda figura, vedete, e in modo tale può variare in direzione in modo tale che conservi lo stesso momento del caso precedente con il valore minimo del modulo. E allora in questo caso per realizzare il valore minimo del modulo, conservando lo stesso valore del momento dato dal prodotto di modulo della forza per la distanza, se vogliamo il minimo del modulo della forza, dobbiamo realizzare il massimo della distanza. Il massimo della distanza, come vedete indicato in figura, si realizza quando H è uguale a B. E quindi la risposta al secondo quesito, come vedete, è banale, il valore minimo del modulo della forza si ottiene dal rapporto del modulo di M diviso B e quindi è pari a 50 N. Con l'esercizio 3.2 vi viene assegnata una mensola di figura costituita da due travi collegate a cerniera in P e fissata a un muro con le cerniere A e B. Calcolare la differenza tra i momenti della forza rispetto ad A e B. Quindi anche in questo caso si pensa ad una forza assegnata di modulo 400 N, viene indicato quell'angolo α per poter far variare la direzione della forza e nel caso specifico, nella prima domanda, vi si dice α uguale a 60 gradi, però poi possiamo far variare α e vedere come varia il momento della forza. E poi viene assegnato la distanza tra i due punti A e B, quindi notate in quel triangolo ABP vi viene assegnato un unico elemento, la distanza AB. La domanda non è il calcolo separato del momento della forza rispetto A e B, ma soltanto il confronto tra i momenti della forza rispetto ai due punti A e B. E allora bisogna applicare la formula di variazione del momento al variare del polo, quindi quella differenza dei due momenti MA meno MB è determinata dal prodotto vettoriale di B meno A per V. Ricorrete all'espressione cartesiana di questi due vettori, il vettore B meno A vedete è dato da B per J, J è il versore dell'asse Y, il vettore V che nel nostro caso è la forza, lo ha rappresentato, ne fate rappresentazione cartesiana, quindi sarà Fx per i più Fy per J, eseguiamo il prodotto vettoriale indicato, quindi J per i vi dà luogo a meno K, J per J è 0, quindi quella differenza di momenti è data da meno BF di X per K. E questo risponde in maniera completa alla domanda, vedete questa differenza di momenti dipende non da tutta la forza ma solo dalla sua componente lungo l'asse X e dalla distanza tra i due punti. In particolare per l'angolo α che vi viene assegnato, cioè per il valore α uguale a 60 gradi, e allora basterà sostituire nella formula precedente e avete che quella differenza è data da meno B modulo F coseno α K e quindi viene quello scalare λ davanti a K, il cui valore come potete verificare è 160 N per metri. In particolare, ecco, adesso pensiamo di far variare l'angolo α non è più 60, ma pensiamo ad una forza che ha quell'angolo variabile con l'asse X e vedete che quando α è uguale a π mezzi, e cioè questo significa la forza E verticale, parallela all'asse Y, ebbene allora il prodotto B meno A per la forza s'annulla, quindi MA è uguale a MB e questo rientra in un'osservazione che abbiamo già fatto la volta scorsa quando abbiamo esaminato le proprietà della variazione del momento al variare del polo, ricordate la formula MA uguale a MB più B meno A vettore V e quindi quando B meno A vettore V è 0, cioè significa dire il vettore parallelo ad AB, i due momenti sono uguali, quindi quando α è π mezzi quella forza è parallela ad AB e abbiamo trovato l'uguaglianza dei momenti. Quando invece α uguale a 0 oppure α uguale a π, cioè la forza allineata con la trave di P lungo l'asse X, allora chiaramente il momento rispetto a B si annulla perché B finisce con appartenere alla retta d'applicazione della forza e il momento MA assume quel valore, quindi abituatevi a vedere un poco questa variabilità delle forze con l'angolo α per vederne l'influenza sul calcolo dei momenti. Un altro esercizio si propone di determinare il momento rispetto a C della forza agente sulla sezione di figura, eseguire il calcolo sia mediante la definizione di momento sia mediante la rappresentazione cartesiana 1,3, quindi si tratta di una sezione A, sulla quale agisce quella forza F applicata nel punto B, vi vengono assegnate le varie distanze e quindi vi si chiede di calcolare il momento in tutte e due le maniere che abbiamo indicato nelle formule precedenti. E allora cominciamo a osservare che voi per poter calcolare questo momento della forza avete bisogno di conoscere quell'angolo α, quell'angolo α non vi viene assegnato esplicitamente però lo calcolate subito conoscendo tutte le distanze che sono indicate in figura. Prendiamo ad esempio il triangolo rettangolo BHA, la lunghezza del cateto BH è uguale alla lunghezza dell'altro cateto H per la tangente dell'angolo opposto, cioè per la tangente di α e quindi ricavate subito la tangente di α è uguale al rapporto delle due lunghezze, quindi è 4 noni come vedete, da cui ricavate che α è all'incirca di 24 gradi e questo vi consente di calcolare subito il seno di α e il coseno di α e cioè le componenti cartesiane della forza. Se noi vogliamo passare al calcolo del momento rispetto al punto C dovremmo fare A-C vettore la forza, scusate B-C vettore la forza. Però osservate che il punto A appartiene alla retta di applicazione della forza e voi sapete che il momento polare di un vettore non cambia quando si trasporta il vettore lungo la sua retta di applicazione. Allora in questo caso vi conviene pensare applicato il vettore F non nel punto B ma nel punto A è la stessa cosa e quindi semplificate i calcoli in questa maniera per AMC uguale A-C per F e quindi cominciamo a vedere questo momento che proprietà c'è. Anzitutto il momento deve avere la direzione ortogonale al piano del disegno, poi vi accorgete che questa forza all'osservatore disposto nel punto C appare l'evogire, quindi vedete viene uno scalare positivo per K, il momento ha il verso di K, il modulo del momento è dato dal modulo del prodotto vettoriale, quindi modulo di AC per modulo di F per il seno di alfa. Con i dati assegnati si calcola questo scalare lambda e potete verificare questo lambda è uguale a 12,3 N per m e quindi così abbiamo risposto alla domanda sul calcolo del momento, ripeto calcolo del momento che abbiamo fatto secondo la definizione. Questo stesso calcolo potete anche fare mediante la rappresentazione cartesiana, abbiamo calcolato quell'angolo alfa mediante il quale potete determinarvi le componenti della forza che sono quelle indicate, Fx uguale 41 N, Fy meno 91 N, F0 uguale a 0, siamo di fronte a un sistema piano e poi dopo di che calcolatevi le coordinate del punto d'applicazione della forza e quindi avete che MC è determinata dalla espressione cartesiana del momento polare, cioè il determinante di quella solita matrice nella prima riga della quale sono disposti i versori degli assi. Se sviluppate questo determinante avrete lambda K e verificate subito questo lambda allo stesso valore del caso precedente come doveva essere ovvio e quindi ricavate lo stesso valore in questa seconda maniera. Un altro esercizio, l'esercizio 3.4, determinare il momento di rotazione intorno all'asse Z che è la forza F imprime alla lamina quadrata di figura. Ebbene, quindi abbiamo quel quadrato di lato B, la forza è applicata in quel vertice P, questa volta si vuole il calcolo del momento assiale rispetto all'asse Z perpendicolare al piano di questa lamina e quindi se applichiamo la definizione di momento assiale, noi dovremmo calcolare il prodotto misto P-O, vettore alla forza, scalare E se vogliamo farlo in maniera cartesiana oppure possiamo ricorrere alla regola di calcolo del momento assiale. Bene, se lo facciamo mediante l'espressione cartesiana allora cominciamo a osservare, abbiamo bisogno delle coordinate del punto P che sono BB e 0, la lamina è quadrata, poi abbiamo bisogno di conoscere i cosini di lettori della retta R, ricordate la formula 2 a 4, era l'espressione cartesiana del momento assiale, ma la retta rispetto a cui stiamo calcolando il momento assiale è l'asse Z, quindi i suoi cosini di lettori sono 0, 0, 1 e infine abbiamo bisogno di conoscere le componenti cartesiane della forza, state attenti a individuare bene gli angoli, quindi la componente di F sull'asse X modulo di F, e state attenti, l'angolo che la forza F forma con l'asse X è di 90 più 30, quindi il cosino di 120 e quindi è meno un mezzo F, se calcolate F sull'asse Y l'angolo che F forma con Y è di 30 gradi e quindi avete quei valori indicati per le componenti cartesiane della forza, dopodiché vi basterà applicare la formula che abbiamo detto prima, la formula 2 e 4 per l'espressione cartesiana del momento assiale, il momento assiale M e Z coincide con il determinante di quella matrice, sviluppate i calcoli, sviluppando ad esempio lungo gli elementi della terza riga o della terza colonna è lo stesso e quindi avete quella formula semplice. Se invece voleste calcolare il momento assiale applicando la definizione del momento assiale, la regola di calcolo meglio che abbiamo visto prima, cioè moltiplicando il modulo della forza per la minima distanza tra la retta Z, nel nostro caso la retta d'applicazione della forza, ebbene quella distanza H è data proprio da radical 3 più 1 diviso 2 per B e questo lo ricaverete applicando la formula di geometria di distanza di un punto da una retta, quindi vedete questo calcolo fatto mediante la regola che abbiamo esposto prima è più diretto, non c'è bisogno di fare tanti calcoli, basterà determinare la distanza, la minima distanza tra O e la retta d'applicazione del lettore per avere subito il momento assiale. L'esercizio 3.5. Sulla staffa di figura agisce la forza F parallela al piano XZ ed inclinata dell'angolo α rispetto alla verticale, calcolare i momenti polari rispetto ai tre punti O, origine del riferimento, e A e B, quei due punti che sono posti lungo l'asse verticale Z, e calcolare inoltre i momenti assiali MX, MX e MZ, esaminare poi la variazione di tali momenti al variare della retta, al variare dell'angolo α. Esaminiamo un poco meglio questa figura da vicino, e quindi vi accorgete che la forza F agisce in quel piano X' Z' che è parallelo al piano XZ, e quindi vedete il momento di questa forza rispetto all'asse Y, non è necessariamente nullo perché la forza incida l'asse Y, ricordate le condizioni di annullamento del momento assiale. Se invece, supponiamo, ci siano piccole deformazioni di quella staffa intorno ai punti A e B, ci domandiamo se potrebbero avere rotazioni intorno alle rette parallele ad Y che passano per A e B. Ecco, cominciamo a porci questa domanda in modo da vedere, ad abituarci un poco al significato fisico del calcolo di questi momenti assiali. E poi domandiamoci tra i momenti rispetto ad A e B di quella forza, il modulo in modulo quale è maggiore? Il momento MA o il MB? Ecco, prima di fare i calcoli io vi suggerirei di andare a farsi queste domande e cercare di rispondere prima di fare i calcoli. Un'altra domanda che potreste porvi, il modulo del momento rispetto al polo O dipende dall'angolo α, vedete voi tenete quella forza F che agisce nel piano X' Z' con angolo α variabile. Ebbene faccio il momento polare di quella forza rispetto ad O e mi chiedo se il modulo di questo momento può dipendere da α o non. E quindi ecco perché vi ho annotato queste domande, prima di eseguire i calcoli cercare di rispondere a queste domande. Il modulo del vettore momento può dipendere dall'angolo α, badato il modulo. La staffa può ruotare intorno a Y? Qui abbiamo già implicitamente risposto perché il momento MY è uguale a 0 per incidenza, come abbiamo detto, e invece può ruotare intorno alle rette parallele ad Y per A e B. Un'altra domanda che potreste farvi prima di fare i calcoli, per quale valore dell'angolo α, inclinazione della forza su quel piano, risultano uguali i momenti MX e MZ? Ecco quindi la domanda dell'esercizio, cercate prima di intuire quali possono essere le risposte a queste domande e poi verificherete le risposte eseguendo i calcoli. Comunque la risposta a questo esercizio, che non sviluppo completamente in modo da lasciare a voi la possibilità di esercitarvi, comparirà sui titoli di coda della prossima lezione. Dimenticavo di dirvi che nella lezione precedente noi abbiamo proposto alcuni esercizi di algebra vettoriale, le cui risposte sono indicate nei titoli di coda della lezione successiva e volta per volta quando concluderemo un argomento io vi proporrò numerosi esercizi, alcuni dei quali li svilupperemo insieme e altri poi affiderò alla vostra dirigenza, le risposte le troverete sempre sui titoli di coda delle lezioni successive. Tutto questo perché? Perché un corso di meccanica razionale, come ebbi a dirvi nella prima lezione, ha due obiettivi. Un primo obiettivo che è quello di porre le leggi generali del movimento o dell'equilibrio e quindi è chiaro che tende a darvi un certo numero di principi che poi dovrete applicare nello studio di numerosi altri problemi tipici dell'ingegneria. Ma poi c'è anche un secondo obiettivo, qual è quello formativo di abituare l'allievo a saper risolvere certi modelli semplici delle applicazioni. Ebbene quindi è chiaro che in questo corso di diploma io tenderò a sviluppare soprattutto questa parte formativa del corso in modo da porvi in grado di risolvere certi modelli semplici e quindi io insisterò particolarmente sullo svolgimento di esercizi, sia proponendomi alcuni direttamente, svolgendoli qui sul video, sia poi indicandovi esercizi specifici sui libri di testo che voi consigliate in modo che voi possiate intensificare questa vostra esperienza sugli esercizi. Vediamo poi l'esercizio 3.6. Sulla manovella di figure agisce una forza F perpendicolare al braccio AB e inclinata sull'asse X di un angolo beta. Calcolare il modulo del vettore momento polare e il momento assiale quando i dati sono quelli, il modulo della forza è 60 N e l'angolo α più beta uguale a 45 gradi. Cerchiamo di vedere un poco meglio questa figura che in parte potrete trovare, sia pure connotazioni diverse, simboli diverse sul testo di Beer e Russell e Johnston. Questo esercizio è un po' di riepilogo su queste regolette che abbiamo dato per il momento polare, il momento assiale. Cominciamo a vedere per esempio il momento rispetto all'asse Y che possiamo calcolare o in forma cartesiana o direttamente con la regola di calcolo che abbiamo visto in questa lezione. Ecco, se voleste calcolare il momento di quella forza che agisce nel piano X'Z' rispetto all'asse Y, l'asse di rotazione della manovella, ebbene cosa dovete fare? Dovete moltiplicare l'intensità della forza per la minima distanza che passa tra la retta d'applicazione della forza, quindi vedete la retta BH e l'asse Y, una distanza che vi ho indicato in figura col segmento HD o se volete con H piccolo. Ebbene, quel segmento, quella distanza H piccolo, vi è data nel solito triangolo rettangolo BHD dalla lunghezza dell'ipotenusa, quindi BD, per il seno dell'angolo opposto. Vedete, l'angolo opposto alla distanza HD è pi greco meno alfa più beta e quindi questo momento assiale è dato dal prodotto dei moduli di F per BD per il seno di alfa più beta. Quindi vedete, questo momento assiale dipende non singolarmente dagli angoli alfa e beta, ma dalla somma alfa più beta. Ebbene, quando è che si può annullare questo momento assiale? Questa è una delle domande che vi viene fatta. Oppure potreste farvi un'altra domanda con riferimento alla figura dell'esercizio 3.6, specificare i valori di alfa e beta che rendono nullo o massimo il momento assiale MY. O ancora, sempre con riferimento a questo esercizio sulla manovella, ci chiediamo se sia possibile calcolare MY quando sono noti MX, MZ ed alfa, guardate quando sono noti questi elementi, non le componenti della forza. Con riferimento a questo esercizio 3.8 io vi suggerirei di scrivervi il momento della forza, il momento polare rispetto ad O che è dato da B meno O prodotto vettoriale per F ed osservare che questo momento, per definizione del momento polare, è perpendicolare a B meno O, quindi MO per B meno O uguale a 0. Se scrivete l'espressione cartesiana di questo prodotto scalare, ricavate la formula che vi è avuta a risolvere questo esercizio 3.8. Comunque le risposte di questo esercizio un po' articolato vi saranno indicate sui titoli di coda della prossima lezione. E per oggi abbiamo terminato.